Un vasto incendio ha colpito ieri in località Petrusi di Roccella Ionica. Le fiamme, anche spinte dal forte vento, si sono propagate velocemente lambendo le abitazioni vicine. Providenziale così è stato l'intervento di due elicotteri di Calabria Verde che dopo circa un'ora sono riusciti a domare definitivamente le fiamme che nel frattempo avevano distrutto ettari e ettari di territorio, che nel frattempo avevano distrutto ettari ed ettari di vegetazione. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe di origine dolosa. Non è la prima volta che queste contrade vengono colpite dalle fiamme, tenendo anche presente che al momento siamo in bassa stagione. Probabilmente la mano criminale di chi ha deciso di appiccare fuoco ha pensato bene di sfruttare il forte vento che in effetti ha fatto propagare velocemente le fiamme, mettendo in pericolo parte della popolazione che vive in questa contrada.